Fungo in votazione la proposta del senatore Bacucci di spostare la dichiarazione Fungo in votazione la proposta del senatore Bacucci di spostare la dichiarazione Fungo in votazione la proposta del senatore Bacucci di spostare la dichiarazione Fungo in votazione la proposta del senatore Bacucci di spostare la dichiarazione Presidente, al netto di una semplice manifestazione di consegna di depagine che per noi non hanno valore perché non abbiamo avuto la possibilità di leggerle e di analizzarle il questore Bottici, al posto che calmare gli animi qualora ce ne fosse stato bisogno si è permessa di mettermi le mani Allora, cerco il commesso Certo, cerco il commesso Se parliamo tutti non riusciamo a capire nulla Non riesco a capire nulla Lei ha ritenuto che fosse giusto che un questore del senato potesse offendere i suoi colleghi Oggi cosa ritiene? Che sia giusto che un questore del senato possa spingere i suoi colleghi Non è nei loro compiti E lei lo deve impedire Allora ci va ora a vedere il filmato O se no qua noi Laura lo occupiamo sul cielo stasera Allora O che ci sia rispetto I diritti sono di tutti Anche in Unione D'accordo? O che ci sia rispetto 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 Grazie a tutti.